Lieve tenuità del fatto. Pur responsabile di gestione illecita di rifiuti, è stato assolto perché il fatto ha una modesta rilevanza il 40enne ossolano finito a processo per ciò che deteneva in un capannone di pallanzeno. A un sopralluogo delle forze dell'ordine effettuato nel 2020 fu riscontrata l'esistenza di un'attività di autoriparatore non autorizzata e all'interno di essa, la presenza di pezzi di ricambio e scarti che non poteva detenere. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.